La vedi da qua, da qua la vedi là in mezzo Allora cosa facciamo? Siccome siamo di meno andiamo tutti su un lato Raga noi non l'abbiamo mai fatto quindi non siamo Ma se ne frega basta seguire Quando vedi qualcuno spara con un po' sicuro Non li conoscono Perfetto Fa lui Cioè senza rancore Tipo così Ehi pezzi di marda voi Mi raccomando il mio culo è sacro Il culo? Io dubbi Quando vogliamo Pronti? Pronti? Via Ok dove andiamo? Andiamo di qui Sì compatto Eri Iri 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 a destra a destra a destra attenta qua che lì si è esposta faccio spazio a destra 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 a No, 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 no. Trincea, nemici. Trincea nemici, vado avanti, attenta. Nemici dietro. Trincea nemici. Trincea nemici. Grazie a tutti. 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 Dovrebbe essere andato. a tutti. Grazie 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 a tutti. Veloci, 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 dobbiamo fare pressione. Davai, davai. Scappando. Da che direzione? Sono sulla sinistra? Cazzo. Dobbiamo pushare allora. C'è il vetro, c'è il vetro, c'è il vetro! C'è il vetro lì, in quel foro. C'è il vetro? Grazie a tutti 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 Fa il giro a sinistra Grazie a tutti